Al campionato per il momento non ci pensa nessuno, eppure l'esordio contro la Regina nella serata di venerdì 23 agosto è di fatto dietro l'angolo. Al Bari però vogliono compiere un passo per volta e così ci si concentra sull'impegno più immediato. Il terzo turno della Team Cup offre ai biancorossi un test probante e un avversario di categoria superiore, quale l'Atalanta. Si giocherà domenica pomeriggio a Bergamo ed è a quella partita che sono proiettati i pensieri di tecnico e calciatori. Non uno snodo importante della stagione, del resto siamo solo a metà agosto, ma un appuntamento al quale i biancorossi, con un organico ancora da completare, non vogliono sfigurare. Lo ha detto chiaramente il tecnico Alberti, lo ha ribadito Schaudone, autore del rigore decisivo nella serie che ha sancito la vittoria sull'Umezane dopo il pareggio maturato in tempi regolamentari e supplementari. Anzi, è proprio Schaudone a lasciare aperto uno spiraglio per la qualificazione al turno successivo, sottolineando però il valore e la forza dell'Atalanta. Alle vicende del campo, come ormai accade da tempo al Bari, vanno associate quelle societarie. Il nodo da sciogliere è relativo all'utilizzo dello stadio San Nicola. La famiglia matarese si starebbe guardando attorno per giocare in un altro stadio e quello di Andria sembra in cima alle preferenze. Situazione fluida che non riavvicina i tifosi alla squadra, nonostante contro il Lumezzane, al di là dei 2.500 spettatori presenti al San Nicola, in 50.000 abbiano seguito la gara attraverso il web. Insomma, l'interesse c'è, ma è virtuale. Grazie. 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 Grazie.